Dal 2 al 5 giugno a Bolzano avrà luogo il primo Festival del Gusto. Di cosa si tratta? In occasione di questa prima festa del gusto a Bolzano, nel centro storico, i prodotti di qualità si presenteranno con delle case di prodotto e anche con dei stand dove saranno spiegate tutti questi prodotti di qualità dell'Alto Adige. All'interno del Festival ci saranno spazi speciali dedicati ai prodotti, in particolare anche uno sarà dedicato allo Spec Alto Adige IGP, vero? Lo Spec Alto Adige, siccome aveva già fatto 10 anni di festa dello Spec e adesso con questa festa sarà praticamente sostituita la festa dello Spec però ad un altro livello con tutti i prodotti dell'Alto Adige e quindi in questo Festival lo Spec avrà sempre un ruolo importante e sarà la casa dello Spec dove sarà spiegato tutti i cicli, la produzione e anche la degustazione dello Spec. Cosa rende lo Spec Alto Adige IGP così unico? Lo Spec Alto Adige IGP è noto soprattutto per il suo gusto, per questo avrà il ruolo centrale anche di questa festa è protetto da Bruxelles, per questo anche il nome, indicazione geografica protetta è un prodotto autentico, naturale e soprattutto sicuro che ha i controlli che quasi ogni giorno i produttori hanno i controlli in casa e poi sui piatti, sui piatti è molto particolare, antipasti però in cucina però a me piace lo Spec mangiato così con un buon bicchiere di vino anche dell'Alto Adige. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!